Stanno per arrivare un po' di soldi al comune di Fano che permettono con questo riassesso di bilancio di sistemare un po' di cose che erano rimaste in sospeso. Con questo assestamento diciamo che è un bel regalo di Natale per la città di Fano dove riusciamo un pochino a rimettere a posto alcune situazioni annose, gravose che hanno creato difficoltà nella città. Penso ad esempio alla zona del Lido, al sottopasso del Lido dove con questo investimento di circa 900 mila euro metteremo a posto finalmente il problema dell'allagamento del quartiere Lido. E quindi questa è sicuramente una risposta importante dopo anni e anni di difficoltà soprattutto agli operatori economici, soprattutto nel periodo estivo dove si allaga frequentemente anche con un semplice temporale e quindi crediamo che sia una bella risposta. L'altra questione ed è anche cronaca di questi giorni è la rimessa a posto, dare una nuova dignità al Pincio che è un contenitore fantastico ma che purtroppo in questi anni è stato troppo dimenticato anche dal punto di vista proprio dell'arredo urbano, dell'illuminazione e i fatti di cronaca di questi giorni ci dicono che è urgente e necessario intervenire. L'avevamo già deciso, sembra quasi farlo a posto prima ancora che avvenisse questo fatto tragico e credo che anche su questo aspetto della riqualificazione del centro storico con questi investimenti che noi andremo a fare adesso nel 2018, non appena avremo votato in consiglio comunale giovedì, daremo alla città una nuova veste. Comunque è importante ricordare alla cittadinanza che in tutti questi anni questa amministrazione ha fatto notevoli investimenti, ha dato una nuova veste alla città, penso al centro storico tipo la Rocca, via Garibaldi, la Darsena Borghese. Quindi sono investimenti importanti che lasciamo e diamo alla città una veste migliore sicuramente. Direi anche da non dimenticare degli investimenti nel settore sportivo, metteremo a posto una palestra storica che è la palestra Zattoni al Borgo Metauro e un centro di tiro a volo che potrà diventare una tappa di un campionato del mondo. Quindi è sicuramente prestigioso per la città di Fano perché sono dei soldi che sicuramente non sono pochi perché sono circa 200 mila euro ma che comunque riporterà delle ricadute importanti economiche sulla città. Saremo una tappa del circuito mondiale e quindi si prevedono grosse partecipazioni.